Lione Valentini, centrocampista a quest'anno. Oddio la presa! Oddio la presa! Stefano Melis, centrocampista, Lione. Alessio Viti, intenzione, alza va. Luca Fucili, attaccante Sera. Bravo! Capito! 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 Ciao, sono Luca Ganghiari, centrocampista del Celsio. Ciao, sono Gaetano Gargiulo, centrocampista dell'Olympic Marsiglia. Ciao, Adriano D'Annipale, difensore per l'entrata è Roma. Guarda che è facile. Si tira una ciavattata. Ciao, Maurizio Pecora, ruolo difensore Liverpool. Lorenzo De Marchi, difensore Celtic. Mi occhi, stai con la roccia, trono a pista, trono a rincoma. Ficcatevi al cornicione. Ciao, sono Alessio Martinez, faccio un pensore come Sporting Blues. Davide Di Perna, esterno-sinistro, pizzeria Fornino. Lorenzo Cato Dei, difensore Manchester City. L'attaccante Porto è 0-9. È un tira sottile, delicato. Non è diverso il potere. Maruti, ma se vuoi cambiare il giocatore? Federico Martini, 9, attaccante Tottenham. Federico Calidri, Barcellona, centocampista. Atraverso. Valerio Spagnoli, difensore Fortepochef. Valerio Spagnoli, difensore Fortepochef. Ciao, sono Alessandro Viscottini, ruolo attaccante di Stanley Merti. Fini, ecco lui. Ho preso il palo, lui. Ho preso il palo. Luank. Ciao a te!